Siamo felicissimi come comitato perché chiaramente seguivamo questa vicenda e ormai sembrava quasi una commedia dell'assurdo. Finalmente è stato esitato il DDL da parte della Giunta ma ancora la parola fine sarà messa dall'ARS perché ricordiamo che il DDL dovrà approdare all'Assemblea regionale per essere esitato, anche se si tratta di una semplice presa d'atto. Ma cosa succederà in merito proprio alla migrazione dalla Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta alla città metropolitana di Catania? Consentirà ai nostri rappresentanti di usufruire tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo nell'ambito delle elezioni che entro settembre, entro la prima metà di settembre saranno indette per dotare questi enti intermedi e in particolare per quello che a noi riguarda l'area metropolitana di Catania dell'organigramma interno per cui i nostri rappresentanti, compreso il Sindaco di Gela, potranno aspirare anche ad un'eventuale candidatura. Che ruolo avrà nella città metropolitana di Catania la città di Gela? Gela è una città che a livello di popolazione sarebbe tra le più grosse delle città che approdano all'interno dell'area metropolitana. Il voto ponderato ci consentirà chiaramente di avere il ruolo che Gela merita di avere, però molto ne sta dalla capacità e dalla caparbietà, dalla competenza e dalla professionalità della politica di poter giocare questo ruolo e giocarselo fino in fondo con chiaramente i risultati che una città come Gela si merita tutti.